La pizzeria faccio il fornaio, questo è il tuo mestiere del fornaio, però il Pizza Village mi sta dando l'opportunità di fare anche le pizze, in Pizza Village vengono tutti i ragazzi che iniziano questo mestiere, iniziano dal Pizza Village, uscino ai forni, al banco, io anche l'anno scorso ho partecipato a questo evento, facevo il fornaio, l'anno scorso mi sono imparato, poi c'erano le pizze, mi sono imparato ancora, mentre alla pizzeria faccio il fornaio già da un anno, quasi due anni, e il Pizza Village mi ha dato l'opportunità di fare le pizze, il mio maestro pizzaiolo, Edigo Di Pietro, mi ha dato l'opportunità di fare le pizze a questo evento, ecco qua tutto, questo è il Pizza Village, un evento bellissimo, infatti sì, questo è il forno che sta iniziando a preparare per fare le pizze stasera alle 7 alle ore.